ciao amici amate il tè se sì siete fortunati secondo uno studio svolto in cina il tè allunga la vita disponibile in bustina o sfuso dai mille aromi rilassante ma non solo l'appuntamento delle cinque preferito dagli inglesi il tè sarebbe un elisir di lunga vita sembra troppo bello per essere vero già mi immagino i titoli delle pubblicità la vecchiaia teme tè con il tè i produttori di tè dovrebbero assumere tè come copy comunque sarebbe tutto vero lo sostiene uno studio sull'european journal of preventive cardiology realizzato dall'accademia medica cinese vediamo insieme tutti i dettagli se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video l'analisi è riguardato un campione di 100 persone che ha bevuto tè con frequenza regolare e vissuto in media 1,2 anni più degli altri ha avuto un rischio ridotto del 56 per cento di contrarre malattie cardiache e ictus letali e un rischio ridotto del 29 per cento per tutte le altre possibili cause di morte si è scoperto che i benefici riguardano soprattutto il tè verde il tè verde avrebbe ridotto del 25 per cento il rischio di problemi cardiaci ictus e altre malattie inoltre i benefici del tè verde sarebbero più rilevanti nelle donne che negli uomini questa è una buona notizia per noi ma non solo sapete perché il tè verde è così miracoloso secondo i ricercatori la ragione andrebbe individuata nei polifenoli abbondanti nel tè verde proteggono dalle malattie cardiovascolari nel tè nero invece i polifenoli perdono l'effetto antiossidante durante la fermentazione quindi proviamo ad abituarci anche noi al tè verde come gli orientali è buono così puro senza zucchero e limone mi raccomando a me non piaceva all'inizio ma ora lo gradisco moltissimo e ne assaporo anche i benefici per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale è come una video rivista online che pubblica contenuti utili e gratuiti ogni giorno l'alimentazione è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali Grazie a tutti